Oh, è facile, è difficile, vabbè, comunque, ma ci sono 5 stelle, ok, c'è, c'è, non c'è, c'è 5 stelle, aspetta che il caldo ha fatto il suo effetto, un altro, ok, c'è, c'è 5 simboli, c'è la stella, le onde, il più, il quadrato, ed il cerchio, adesso il nostro Andrea si farà vedere la carta capovolta, dovrai indovinare che il simbolo si trova dentro, ok, non ridere che è una cosa seria, non ridere che è una cosa seria, metti i suoi capellini, adesso li diamo lui, Dai, sconcentrati, si, sta bene, vai, vai, però, se, ma, Leo, fammi una cortesia, occhio allo svizzero lì, con cortesia, grazie, potete spostare quello svizzero, dai, dai, vai, andate a scopo la carta, oh, trinconi in Italia, eh, Va bene, ma Fabio, aiutami per favore, dai, aiutami, aiutami, vai, 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 allora, Francesco, abbiamo, abbiamo tipo una quindicina di Twinkie, non ne abbiamo un milione, quindi lo posso, Magari, magari, tutti i miei, vabbè, come ti chiami, scusate, Marzia, ho un metro di chiamo, non posso arrivare al palco, se ti avvicinimi, per favore, Grazie, Marzia, Marzia, hai vinto un Twinkie, no, 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 ok, io pensavo abbastanza, devi dare la colpa a lui che succedisce, vabbè, il gioco consiste un'altra cosa, Vabbè, Marzia, grazie, adesso c'era la tua amica, forse, doveva provare